Munizioni al massimo. Materia grigia ovunque. È il nostro giorno fortunato, squadra d'assalto. Abbiamo nuovi ordini dal direttore. Dobbiamo chiudere lo squarcio dimensionale per contenere la diffusione. Credo che lo spedimento dell'acceleratore di particelle riciderebbe il legame tra le due realtà. Ma come farlo? Raptor 1 ha una finestra a destrazione. Squadra d'assalto. Chiamate se avete bisogno di andarvene. Anomalia rilevata. Anomalia rilevata. Sempre meglio di niente. Anomalia rilevese. Buongiorno. Grazie a tutti. Bomba incendiaria partita. Carpentiere. 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 Cos'hanno in mente i sovietici, Weaver? Vista la posizione degli squarci, si sono esposti a un rischio non indifferente. Sinceramente, dottoressa Gray, non sappiamo molto del gruppo Omega. Un mio contatto, Maxis, stava indagando tutti loro prima di scomparire. Spero non l'abbiano trovata. Spero non l'abbiamo, non l'abbiamo. Torna a combattere. Ti ripagherò. Torna a combattere. Grazie a tutti.